La colonna di Roma ha dei romani da un terno con una capienza di 8.500 posti. Probabilmente danneggiata dal terremoto, il teatro fu in seguito personalmente demolito per costruire altre strutture, la zona riservata al pubblico che aveva quindi un'origine 3.000 posti a studiere. L'orchestra, la zona che si ti ha reso per una scala di documento, si può essere mostravati tre volte. Le cellule sono stati di una serie di romani che sono stati portati sotto Grazie a tutti.